L'esperienza della nostra azienda con Asset Management è l'implementazione del percorso 70-20-10 di accompagnamento al cambiamento. Se devo sintetizzare in pochi aggettivi quale risultato ha prodotto questa implementazione, devo assolutamente affermare con un aggettivo ottimo. Ottimo nel senso che questo ha permesso di liberare le energie nel management e di far assumere la consapevolezza delle proprie forze all'interno dell'azienda. È un percorso scientifico, nel senso che può essere ideato, progettato, su misura per ogni azienda e naturalmente condotto con una grande professionalità. Perché diversamente il rischio di insuccesso può essere elevato. Nel nostro caso il successo è stato eccezionale, raggiunto in pieno l'obiettivo che ci prefiggevamo. Cioè un cambio proprio culturale nel concetto di gestione dell'azienda.